scusi per la spa da che parte di lato scusi per la star con da che parte guardi non lo so io sono appena arrivato dalla spa infatti ho appena steso l'asciugamano non 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 Grazie a tutti. ma che belli questi orologi tenente che ore sono? è ora di levare le tende signore inizio da quella adesso cominciò a assomigliare a qualcosa che va bene não 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 aần não specchio specchio delle mie brame qual é? la più bella del reame Cuella il cuore No sai ancora stanno Cuella il cuore